Siamo pronti ad accogliere, facciamo un applauso a Pierpaolo Lai, ambasciatore di L'Oreal Professionel. Bel applauso. Buonasera. Allora. Intanto vorrei spiegare una cosa, per quanto riguarda la prossima sfilata, quello che andrò a creare è una testa molto semplice, molto giovane, molto fresca, perché comunque la stilista ha creato delle cose veramente molto belle, molto particolari, e andiamo a creare proprio uno chignon sulla parte superiore in maniera molto semplice, nel senso che non sono soltanto pettinature da sfilata, ma sono delle acconciature che potete realizzare tranquillamente tutti i giorni, anche per una serata, per una cena un po' particolare, anche a casa, tranquillamente. Chiaramente complici del lavoro che andremo a fare sono i prodotti L'Oreal, e sono due prodotti incredibilmente particolari, perché uno va a lucidare, l'altro va a fissare quello che noi andiamo a creare. Dunque, pettiniamo i nostri capelli, vedete sulla parte superiore, con una spazzola in setola, utilizziamo, vedete, Shine Perfection dell'Oreal, poche gocce sul palmo della mano, e si distribuisce per dare un effetto di luminosità proprio al cappello. Intanto, questa acconciatura è anche molto bella, perché rende bello il viso, perché crea come una sorta di tiraggio anche alla pelle, dunque di conseguenza rende molto più raffinato il viso. Poi prendiamo un elastico, semplicemente, e chiudiamo la nostra coda sulla parte superiore. Ecco qua, semplice. Poi vedete, prendete la coda, la dividiamo in due parti, questo è un gesto molto semplice che potete fare tranquillamente. Mettiamo un po' di lacca, infinium. Vedete, create un nodo sulla parte superiore, e un altro nodo, uno sull'altro, e poi un terzo. Vedete, sono dei gesti molto semplici, chiudiamo il nostro chignon con delle forcine che trovate tranquillamente anche al supermercato, e poi con pochi gesti della mano disfiamo il tutto, perché deve essere una pettinatura che non sia troppo, troppo precisa. Disfiamo un po' lo chignon. E vedete, pochi gesti, abbiamo creato una pettinatura un po' disfatta, perché questo alla fine è quello che si voleva creare, un po' con un effetto un po' vento, e la nostra acconciatura è pronta per la sfilata. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.